La sigaretta elettronica è formata da queste boccette con dei sapori che tu le metti dentro. A parte che devi ricaricarle in continuazione. Un giorno entriamo e ho visto che uno aveva due nei, una attaccata all'altra. Ho detto, con la spina, devi mettere queste boccette che hanno dei sapori buonissimi. C'è la fragola, buonissimo. C'è i frutti di bosco, buonissimo. Melone, buonissimo. Al mango, brava signore, voleva dir la sua. Però con l'almelone, un giorno ho sentito che mi mancava qualcosa, allora ho comprato due etti di prosciutto crudo elettronico. Ho fatto prosciutto e melone. Le donne sono più forti. Quando noi maschi... Allora, interventi chirurgici. La donna fa la safena, il dottor dice, mi raccomando, per due mesi deve tenere questa benda ben stretta. Esce dall'ospedale. A posto, la fragola. Noi maschi, al primo intervento chirurgico, quello di vitalizzare il dente, chiami il tuo amico, dimmi la verità, cosa succede? Non ti fai capire da nessuno. Il tuo amico, no, all'inizio un po' doloroso. Per favore, tutta la verità. Arriva il dentista e gira l'imbarazzo, perché appena ti appoggi, lui ti mette i coglioni sul gomito, così il dentista, e tu dici, non vorrei girare la mano, pensa che gliele devo pesare. Ti mette subito qualcosa, quello... Ti apre la bocca, che si secca tutta, e dice, vado di là. Che cazzo vuoi fare di là? Non si sa, va sempre di là. Mentre lui è di là, dici, provo tutti i suoi strumenti. C'è quello dell'aria... L'acqua, il bicchiero dell'acqua. Solo lui sa dove è il comando. Lo fai azionare tu, ho visto gente uscire a nuoto. Ciao, come va? Le donne sono più forti, d'inverno. Maschio, la febbre, 36,2. Io so già nel letto così. Ho le babbucce, le calze di lana, spesso 4 centimetri. Il comodino pieno di Acti Grip, Zero in All, Fahrenheit, Everybody, Yesterday, tutte le mie... Mia moglie in cucina la chiamo, amore, chiama il prente? Non so se ce la faccio. Cosa che mi sta un po' dando fastidio, perché diventando anziano mi accorgo come si stanno alterando i cinque sensi. Allora, i cinque sensi sono un po' come i sette nani. Te ne scordi sempre uno, no? I cinque sensi quali sono? Sono olfatto, vista, tatto, gusto e... Udito. Perfetto. Quelli che più mi stanno alterando ultimamente sono la vista e l'olfatto. Ho occhiali in tutta la casa e in macchina no. Quindi dico, e ne compro continuamente. Ogni giorno compro un po' di occhiale nuovo. Ho i caratteri del telefonino. Quando mi hanno messo la A è grande così. Quando... Perché ridi sulle disgrazie altrui? E quando sono in aereo, prima che mi dicono Spenga il telefono, sai quelle antipatiche di noi. Spenga un attimo. Ho detto subito. E tu dici, mando l'ultimo messaggio, sai quello, sto partendo. Faccio la S, la host sta in fondo. Vede la S e dice, signor Pucci, metta la virgola dopo, sto partendo. Io dico, fatti i cazzi tuoi, pulisci il bagno, perché nessuno ti ha chiesto di... Allora, l'olfatto, l'olfatto è importante, gli odori, gli odori sono fondamentali. La donna poi vive con gli odori, la donna è sempre profumata. La donna va a letto con la goccia di Chanel e per tutta la notte profuma. Apri il suo armadio, c'è un profumo che esce, l'odore della donna lo riconosci, la prima storia d'amore tu riconosci, la senti viva perché senti il suo odore dappertutto. Proprio sempre quelli di Twilight, sai gli orsi, quelli che seguivano l'odore, no? Noi maschi possiamo mettere anche un litro di profumo, dopo 10 minuti è la calza sudata, l'ascella che è morta come lo yogurt, facciamo schifo, noi maschi facciamo... Allora, l'odore è importante e nello stesso tempo credo che l'odore per noi maschi sia come un mandato di cattura. Perché un giorno ero in macchina, è entrata mia mamma, mi ha dato un bacino. Dopo mezz'ora ho tirato sulla mia donna, mi fa, chi è la troia che è salita in macchina? Mi ha detto, mia mamma cazzo, hai voglia di spiegargli che è tua mamma, non è proprio così facile. Gli odori, allora, gli odori, l'odore della prima volta, il profumo che quando hai fatto l'amore la prima volta lo si ricorderà per sempre, no? Quando senti questo profumo dici, madonna è uguale al profumo che aveva la mia compagna. L'odore della lasagna, quella che prepara tua mamma, la senti anche nel pianerotto, non lo dici, ecco occhio, questo è l'odore della lasagna mia mamma. L'odore è quello della scorreggia del tuo amico che ti ha fatto in macchina, quello è indimenticabile. Apre la portiera e dici, cazzo c'è stato il mio amico. Quando vedi quattro ragazzi con la testa fuori dal finestrino, è perché c'entra il quinto che ha scorreggiato, è quello chi è stato e lui che dà il colpo finale. Io mi ricordo tante belle cose del mio matrimonio, ma tante, non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento. Forse il primo appuntamento, no? Quando eri orgoglioso di portarla fuori a cena. Mi ricordo che l'ho chiamata e ho detto, amore, otto e mezzo vengo a prenderti, ti porto a mangiare fuori, lei. Otto e mezza, otto e mezza, otto e mezza. La più rincoglionita della compagnia l'avevo trovata io. Le citofonavo alle otto e mezza, lei chi è? Sono le otto e mezza, vuoi che sono il testimone di Giova, sono io. Scendo subito, nove e un quarto, nove e venti, dieci meno dieci. Da quanto ho aspettato mi è morta una bremagic in macchina. Apre la portiera alle undici e fa, ho fatto una corsa. Mi chiede, alle otto e mezza che sono qua, sono le undici. Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre Guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' ti dice, cambio io. E senti, e lei cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là. Mi ricorda al ristorante, entri, fai finta di conoscere tutti, no? Perché non devi essere un babbo, fai finta di essere uno inserito. No, ciao, sono qua con la gallina. Una volta tu hai visto tutti i camminili, sono radunati e ho detto, questo qui il cazzo l'avevi visto? Momento dell'ordinazione, perché voi donne per tutto l'anno non mangiate, ma quella sera lì avete una fame devastante. Col menù continuate, guada, 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 guada. Ci sono i tagliolini col tartufo, ho visto, 32 euro, ho visto che ci sono. Da bere lei, se c'è un cadebosco dell'89. Fino all'altro giorno, bevi un'acqua di pozzangra, stasera vuole un cadebosco dell'89. Finisci di mangiare, paghi il conto, non è finito, entra quello con le rose che piange, quello che sembra l'acquena, l'acquena. Io ho scoperto perché piange, perché ha le spine delle rose nelle mani. Poi c'è un personaggio nuovo, quello che passa tra i tavoli con dei pupazzi, ti lascia dei pupazzi sul tavolo. Ti guarda e ti fa, per repatatare pupazzo. Scusi, non ho capito, per repatatare pupazzo. Ti lascia un bigliettino sul tavolo, dici, poverino, sul bigliettino ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, per repatatare pupazzo. Esci dal ristorante e lei ti dice, amore andiamo a un cinemino. Quando andiamo tra noi maschi, finché piacciono noi maschi, sono tutti film d'azione. Robocop, Schwarzenegger, Batman, Rambo. Tutti film che ti condizionano, perché tu esci dal cinema, basta che uno dice, scusa, che ora è? Vai via che ti ammazzo di bocca, vai via, ragione. Se vai con la tua donna devi far scegliere a lei. Cristiano, lezione di piano, l'hai mai visto? L'ho visto anch'io, meno male che ho il posto libero a fianco. Ho preso i coglioni, li ho appoggiati. Allora, 140 mila lire, una buona cena? Quando esci, il maschio è bastardo, dice, qualcosa succederà. A meno per andare a pari del 140 che ho speso. Noi maschi, signora, siete una coppia voi due. Si faceva l'amore in macchina, si ricorda. Avete mai fatto l'amore in macchina? Lui dice, sì, lei no. Eravate insieme, signori. No, perché vengono fuori degli altarini. L'amore in macchina funzionava così. Verso la una la portava in una via buissima. Lei ancora con la borsa a tracola guardava fuori e diceva No, ma cioè, non capisco come... Cioè, tu avevi già il jeans giù. Lei diceva il jeans... Eh, scivolato. Cominciava con le domande più strane. Ma hai chiuso bene? Scusa se ti do fastidio. No, ho chiamato un mio amico con la famosa idricacia e si chiude. Per voi donne, fare l'amore in macchina è sempre stato semplice perché dove siete sedute, rimanete. Noi dobbiamo fare il tragitto. C'è il cambio che è paura che ti vada nel tamarindo, quindi... Per stare comodo lasci la gamba destra incastrata tra il freno e l'acceleratore. mentre fai l'amore ti esce il sangue delle caviglie. Non puoi neanche fare... Ah, 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 ah. Credi se ti piace? Il ginocchio sinistro lo incastravi? Tra il sedile e la portiera. Là in mezzo sono dei ferri che solo noi maschi sappiamo il dolore che si prova. Ti entrano nei menischi. Le braccia. Braccio sinistro lo appoggi al vetro di qua. Con l'umidità che si crea nell'abitacolo spesso il braccio andrà via. Allora devi dargli il colpo a cucchiaiella. Quando scivolava il braccio prendevi delle mentate nello sterno ti usciva a ridere con gli agnolini di sangue qua. Questo destro dove lo metto? Chiedevi aiuto alla cintura di sicurezza là in fondo. Te la rotolavi? Intorno al braccio ti rimaneva il braccio senza sangue dal govito in giù. Sei sudato a fratico. Il cambio che rasenta il tamarindo. Devi fare una prestazione eccellente perché è la prima. Devi tenere il cervello che abbia il collegamento con i quattro arti e in più lui deve rimanere nel buio andavi alla ricerca e dicevi dov'è? Sarà qua. Dov'è? Io una volta ho sentito del caldo ho detto sarà qua. Era il posaceno. Si partiva a fare l'amore tutto scoordinato no? Perché pronti? Via! Vai! Occhio al cambio! Occhio! Intanto, intanto ancora lei dopo dieci secondi diceva amore devo dirti una cosa è importante perché c'ho già un crampo qua dietro e c'ho il braccio tutto in formicolato dimmi guarda che io non prendo niente ma neanche un cronodino provate a pensare alla prima volta che abbiamo fatto l'amore è una cosa che abbiamo rimosso per 5 secondi adesso parte il timer ricordatevi la prima volta che abbiamo fatto l'amore da ora vai chiusi gli occhi che emozione mentre ti stavi baciando la donna a un certo punto diceva oh facciamo l'amore tu dicevi non ho capito facciamo l'amore a che ora siamo sempre stati dei rinc***li se avevi la possibilità di andare a casa e consultarti con un tuo amico che l'aveva già fatto lui ti spiegava come si fa lui allora nudi nel letto tu le prendi i polsi bene glieli stringi la guardia negli occhi e pom colpo secco che se anche va giù dal balcone fa niente speriamo di non farlo da mia mamma che mette la cera per terra non vorrei che mi parte tu li sai fare i preliminari i preliminari si li sai fare cosa sono i preliminari deve arrivare nei primi tre in campionato fare il cretino i preliminari di limonare sei capace di limonare si sono capace di limonare come si fa a limonare io le tengo i polsi ben stretti la guardo negli occhi metto una brocca con dei limoni di un colpo secco prendo la brocca e la faccio di rara così ma no scemo con la lingua allora gli prendo la testa e la metto dentro la brocca faccio di rara così no con la tua di lingua la metto la testa dentro le mie brocca la prima volta che ci siamo baciati alla francese io non ero capace entravo sembravo aramis e tre moschettieri con la lingua anche di lato la prima volta fu traumatica per noi maschi mi ricordo Marco sono sincero la mia prima volta 48 secondi e mentre mi rivestivo facevo anche il figo la guardavo e dicevo hai capito o no il trivelladini guarda mi ricordo che le dissi ti è piaciuto se aspettavi che mi toglievo il collant grazie